Probabilmente sarà fino ottobre la data in cui il Parlamento europeo si esprimerà con il voto anche attraverso il contributo della regione Abruzzo nella strategia per la macroregione Adriatico-Ionica. Lo ha detto nella conferenza stampa il relatore al Parlamento europeo della strategia Ivan Iakovicic al presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, presidente stesso che ha consegnato al Parlamento europeo le proposte modifiche volte a migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie per connettere meglio le zone interne dell'Abruzzo verso le coste dell'Adriatico. Prima di tutto ringrazio al presidente D'Alfonso e il suo team che mi ha aiutato a redare questa relazione con questo emendamento che è davvero cruciale non solo per la tua regione presidente ma lo so che è anche molto importante per le altre regioni adriatiche dell'Italia. Questo progetto infrastrutturale che voi volete realizzare sarà nel emendamento e come oggi posso proiettare l'emendamento dovrebbe essere accettato perché la maggioranza c'è ma dall'altra parte io mi aspetto che anche gli altri partiti seguiranno questa linea perché questa idea non è venuta da un politico non so dove è venuta dai problemi che sono nel territorio, territorio si chiama regione Abruzzo, regione Molise, regione Marchi, regione Puglia. Essendo uno dei politici che ascolta quello che dicono i cittadini, che dicono le regioni e i comuni sono convinto che questo emendamento avrà un buon successo nel Parlamento e una grande maggioranza.